we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite tutte le news delle ultime 24 ore a partire dall'argomento più infuocato di queste ore ovvero sia la skin di loser fruit ma tante altre notizie interessanti prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video news e allora andiamo direttamente nella prima notizia di oggi si parla ovviamente di lei loser fruit ragazzi youtuber giovanissima quasi due milioni di iscritti al suo canale streamer anche di fortnite di valorant e di tanti altri videogiochi del momento arriva come seconda icon series quindi secondo personaggio della serie icone di fortnite da qualche ora è stato decriptato il suo set sono circa 50 60 mega di file come vedete abbiamo tantissime informazioni guardando i file di gioco abbiamo il back pling abbiamo il bounce berry abbiamo il body bag abbiamo le motte che sono fright punchers good vibes only keep your friend close loser fruit che deve essere proprio il nome della skin invece one sweet little berry che credo sia ancora un emote vitamin paked and ready to slash forse il la descrizione del piccone ma voi giustamente dite xiu dai porca miseria mi fai leggere le cose non mi fai vedere niente no tranquillo tranquillo perché volevo un attimo sfatare un mito io stesso ho pubblicato a questa immagine su instagram nelle prime ore della serata di ieri no è semplicemente un concept che lei stessa ha fatto non è assolutamente questo il disegno delle motte ma invece è questo il backpack della skin non vi preoccupate adesso ve la faccio vedere in per completa ragazzi completamente backpack molto divertente due pupazzini dietro un coniglietto e la classica peli la banana tutte dentro una borsetta ma giustamente vogliamo vedere un pochettino di più e allora ragazzi eccola qua badabam 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 abbiamo direttamente la skin in game che come vedete è molto molto colorata diciamo che non passa inosservata con il suo balletto credo che sia addirittura in attraversamento questo balletto perché lo vedo proprio bello bello liscio e abbiamo anche una delle sue emot che faranno parte del set oltre al balletto c'è anche quella che va a annaffiare la fragolina eccola qua oh yeah gli fa la fragolina davvero molto molto divertente ragazzi questo nuovo set io sinceramente non conosco l'oser fruit non l'ho mai vista prima di dover fare i video e delle informazioni quindi tanta tanta roba la vedremo in game ovviamente in maniera più interessante e andiamo avanti al prossimo argomento di oggi ragazzi perché attenzione importante ieri esce è uscita di nuovo la skin di ninja con tutto il suo set quindi la il ballo e il piccone attenzione perché è l'ultima occasione che avrete per ottenere questa skin nello shop ci dà la notizia ufficiale sua moglie la signora jessica blevins che dice siamo stati fortunati che epi games ha voluto rimettere per un periodo di tempo limitato la prima skin della icon series ma attenzione perché rimarrà solo fino a domenica e poi non la rivedremo mai più quindi ragazzi se volete farci un pensiero per ottenere una delle skin sicuramente fatte meglio del gioco perché cavolo è uguale a ninja è veramente fatta benissimo avete qualche giorno di tempo prima di non vederla mai più andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sbada bam è stata inserita nei test server la patch 13.00 e per patch 13.00 intendo la mega pace che ci farà fare il cambio di season programmato per il 4 giugno come sapete ragazzi dentro i file di gioco le patch sono contate come il numero di season che abbiamo vissuto su fortnite in questo momento siamo alla patch 12.60 quindi stagione 12 patch punto 60 appunto e la 13 sta a significare la stagione 13 che sarebbe in realtà la season 3 del capitolo 2 quindi ragazzi non dovrebbero esserci assolutamente ritardi nell'arrivo non sarà posticipata la season ulteriormente non vedo l'ora di vedere che cavolo si sono inventati e andiamo avanti a parlare di un altro argomento importante leggermente passato sotto tono in questi giorni ma nella modalità party royale è stata trasmessa la premiere del film tenet penso sia un poliziesco comunque qualcosa del genere abbiamo anche un'immagine che ci mostra nella sezione delle notizie molto brevemente se vi foste persi il trailer ve lo faccio vedere in francese eccolo qua ragazzi come vedete nello schermo se ti si con amon satrashan non so bene cosa voglia dire ma la cosa interessante ragazzi è proprio il discorso di proiettare nel mega schermo del party royale dei film e qua mi allaccio un argomento molto interessante che arriva direttamente da christopher nolan chi è christopher nolan e perché è importante perché ha annunciato che verrà trasmesso uno dei suoi capolavori per intero sul maxi schermo di fortnite signori christopher nolan per chi non lo sapesse è uno è il regista diventato famoso per aver diretto la trilogia del cavaliere oscuro quindi mamma mia e ovviamente tantissimi altri film è veramente una figata questa cosa perché appunto potrebbe aprirsi tutto un nuovo capitolo di fortnite che non è più visto come videogioco spara spara battle royale tutti contro tutti ma viene visto proprio come metodo di intrattenimento per chi vuole magari divertirsi senza obbligatoriamente voler sparare infatti il party royale che secondo me è proprio all'inizio per quante siano le sue potenzialità ci riserverà tante tante sorprese e quella dei film è veramente una cosa che io apprezzo tantissimo perché ci sta perché non c'è mai vista una cosa del genere in nessun videogioco e quindi applausi semplicemente epic games andiamo ragazzi in chiusura parlandovi anche di una cosa che forse non tutti hanno seguito con attenzione la storyline la side storyline che c'è stata in questa season 2 degli gnomi e degli orsi con delle missioni segrete mai annunciate pubblicamente e ufficialmente da epic games ma che ci hanno dato punti esperienza e anche una legacy nel nostro inventario due parole velocissime la prima cosa cosa è successo praticamente il miele degli orsi è sparito e quindi è stato interrogato uno gnomo per cercare di capire dove fossero le posizioni nei quali fosse stato nascosto il miele gli gnomi hanno iniziato una sorveglianza per i movimenti degli orsi e capire insomma quando poter agire hanno attaccato ovviamente e hanno messo l'orso in gabbia dopodiché gli orsi e gli gnomi si sono ritrovati sulla collina vicino all'agenzia di foresta per darsi battaglia ma in realtà tutto è finito bene perché hanno raggiunto una tregua e quindi la pace è tornata tanta roba anche questa side story c'è anche poi tutta la storia dell'omino di metallo che si sposta per la mappa come nel capitolo precedente c'è stata una storia lunghissima degli uomini di roccia che sono andati poi c'è stato il figlio poi è stato il tipo era caduto nella lava insomma ragazzi epic games mette sempre delle cose divertenti anche che non riguardano al cento per cento la storia in principale e comunque ragazzi non vi preoccupate perché tra pochissimo sapremo qualcosa di più sull'evento di questa season 2 sul doomsday event e su quello che mida vorrà fare io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like e a me mi trovate proprio adesso i live su twitch ciao